Due presidi ospedalieri di secondo livello che nel rispetto di quanto stabilisce il decreto ministeriale del 2015 potrebbero essere realizzati uno accorpando i due ospedali di Chieta e di Pescara e un altro i due nosocomi di L'Aquila e Teramo con una propria direzione sanitaria e due sedi erogative. Questa è solo una delle proposte dell'intersindacale sanitaria abruzzese che per bocca del coordinatore, il dottor Walter Palumbo, si rivolge alla regione Abruzzo dopo l'incontro con l'assessore Veri per una nuova rete ospedaliera nella nostra regione. L'Abruzzo ha diritto ai posti letto che gli spettano per normativa, siamo in questo momento sottodimensionati come posti letto e quindi i posti letto devono essere dati alla regione Abruzzo. Adesso noi vogliamo rivisionare la rete ospedaliera dando funzioni e compiti ai vari ospedali, ospedali di zona disagiata e siamo d'accordo che Atessa possa diventare un ospedale di zona disagiata. Quindi oltre a Atessa noi abbiamo messo Castel di Sancro e anche Santomero fra gli ospedali di zona disagiata, abbiamo messo fra gli ospedali di base che sono ovviamente un po' più succume erogazioni di prestazioni, penne, popoli e atri. Mentre abbiamo dato funzioni a ospedali di primo livello e sono Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto e Giulianova. In modo tale che in questa realtà si possa ovviamente già collocare i punti nascita e noi sappiamo che per Sulmona c'è una trattativa che noi speriamo vada a buon fine, un punto nascita a Sulmona può essere funzionale per il sistema dell'atto sangro. E poi ci siamo focalizzati su quelli che saranno gli ospedali di secondo livello. Noi vogliamo e lo chiediamo con forza che anche in questo momento l'Abruzzo non può rinunciare ad ospedali di secondo livello che sono stati già identificati nel piano di riqualificazione 2016-2018. E quindi sono Chiedi, Pescara, L'Aquila e Telamo. E quindi basta con i campanilismi. Noi vogliamo che la sanità abruzzese possa migliorare la sua qualità delle prestazioni anche con delle idee di secondo livello. Quindi subito al lavoro noi proponiamo questa rete ospedaliera così com'è dando ovviamente risposte a tutte quelle che sono le necessità anche degli operatori.